La Regione Lombardia si occupa della 36 e della 72 in maniera sistematica, poiché è oggetto di numerose attività di confronto con i consigli regionali, con i consiglieri in particolare del territorio. Io sono abbastanza laica sulla proposta, nel senso che non ho grandi preclusioni rispetto a un commissariamento. Questo serve ovviamente per superare tutti quelli che sono i limiti della burocrazia, che la burocrazia italiana, il codice degli appalti su tutti, ha dimostrato nel tempo. Spesso e volentieri non si tratta solo di reperire i finanziamenti per realizzare gli interventi su queste infrastrutture, ma addirittura di superare la fase critica della programmazione e della progettazione. Se il commissario vuol dire poi riconoscimento di poteri speciali che permettano non di non rispettare le regole, ma di accorciarne fortemente i tempi, allora assolutamente sì. Se il commissario diventa l'elemento ulteriore rispetto a una situazione già complessa, assolutamente no. So che però l'elementamento proposto dalla senatrice Faggi andava nella prima direzione, quindi assolutamente il pieno sostegno di Regione Lombardia, che non vede l'ora poi di mettersi comunque a lavorare con chiunque possa rappresentare il governo rispetto dei finanziamenti già erogati che vanno assolutamente spesi.